ciao a tutti oggi prepareremo le focaccine morbide il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 circa ingredienti sono latte farina tipo zero lievito zucchero strutto sale sale grosso pepe rosmarino e olio diamo il via alla ricetta tiriamo all'interno del boccale il latte lo strutto lo zucchero e il lievito e facciamo amalgamare per un minuto 37 gradi velocità 4 adesso aggiungiamo la farina e il sale fino e facciamo impastare per tre minuti a velocità spiga il nostro impasto è pronto andiamolo a trasferire in una ciotola unta d'olio rifestiamolo con pellicola trasparente e lasciamolo lievitare un'ora il nostro impasto è lievitato andiamolo a stendere abbiamo steso l'impasto lasciando uno spessore di circa mezzo centimetro adesso vuol dire andiamo a creare dei forellini su tutto l'impasto adesso prendiamo l'olio e spennelliamolo sulla superficie del nostro impasto adesso mettiamo il sale grosso il rosmarino e il pepe nero trasferiamo il tutto in una teglia da forno e andiamo a infornare a forno statico preriscaldato a 180 gradi per circa 20 minuti la focaccia morbida è pronta andiamola a porzionare focaccine morbide grazie e alla prossima ricetta grazie 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 grazie